6 trucchi per risparmiare sulla spesa. Vuoi sapere subito quali sono? Bene, te li elenco e poi li analizzeremo uno per uno insieme. Lista della spesa settimanale. Controllare il frigorifero di spensa. Preferire i prodotti sfusi. Evitare i cibi precotti. Controllare il prezzo del chilo. Non fare la spesa se si ha fame. Un altro modo per risparmiare considerabilmente sulle spese alimentari e riempire il tuo carrello pur salvaguardando i portafogli, oltre a contribuire alla salvaguardia e all'ambiente e acquistare quando possibile i prodotti sfusi piuttosto che quelli confezionati. Esistono numerosi negozi specializzati che vendono alimenti sfusi o alla spina, ma puoi trovarli facilmente anche nei punti vendita di cibo biologico, in alcuni supermercati e soprattutto per quanto riguarda la frutta, la verdura, i legumi e i cereali in ogni mercato o direttamente dai produttori agricoli. Qui spesso potrai acquistare anche l'olio, la pasta e il riso, oltre ovviamente a vino, formaggi, salumi, yogurt, marmellate e mieli di produzione propria. Ti basterà recarti dal tuo coltivatore o allevatore diretto di fiducia, munito di cassettina per la frutta e gli ortaggi, scatole di cartone, fiaschi barattoli e sport di stoffa per contenere i costi, ridurre i rifiuti e favorire contemporaneamente l'economia locale che non guasta mai.